E' stupenda, ha un nome che la dice tutta sul suo aspetto fisico, bellissimo manto, bellissima creatura, stupenda creatura. E' stupenda, ha bisogno del suo tempo per fidarsi delle persone con cui sta e nel momento in cui si lascia andare, noi l'abbiamo vista, è una galga che si dimostra molto giocosa, molto affettuosa, quindi bisogna darle il suo tempo e accertarsi che nessuno le farà del male, perché chissà cosa ha visto anche questa creatura. E' stupenda, è pronta per una nuova famiglia in Italia che le sappia dare la sicurezza e la gioia di una bella vita nella sua nuova famiglia. Grazie. 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 Grazie.